Ponte di Holdin, Brawl, ti ricordi qualcosa? Si Ma il cerchio lì non era verde? Infatti poi quando ricostruiremo il ponte Ma non ha senso! Sente che qua c'è una rupia Faffanculo Disse dopo Prima di aver tratto un cuore Ok qua io non sono mai riuscito a farlo Sto mostro Mi ha sempre ammazzato Questo? Si Guarda qua Ma va là Falco? Adesso vedi il falco Falco del mondo scuro Si si Guarda il falco del mondo scuro Vabbè Si ma noi dobbiamo combatterlo E lui c'ha l'arco E allora perché non si è mai riuscito a farlo? Perché come faccio a prenderlo? Non so Non ci sono mai riuscito Quindi come si deve fare? Adesso aspetta ci proverò Lui è lì che ci spara frecce Dov'è? Non lo vedo più Io provo a ululare Tutta tranquillità Tanto è quello Speriamo che ci arrivi qualcuno In salvataggio Mi sa proprio di no Non è successo niente Ah quando ci sta per attaccare Dove non saltargli addosso Però Oh fuck Ho una batteria Ho una batteria C'è lo vedo qui il cambio Oh che brutta merda Vai Se continui a cliccare A Se vuoi mettere le pile Muoviti Cosa? Ah no Ok no Niente niente Mi fai andare Non lo so Però ero dentro la battaglia Sai Sì Tipo dentro un bidone Mi sa che dobbiamo saltargli addosso E morsicarlo un pochino No Ci ha preso No No Fuck Un cuore ci ha tolto Che merda Dove dobbiamo fare qualcosa Dov'è? Ah eccola Ok 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 quando ci viene addosso Doviamo fargli un attacco in salto E mordergli il petto Oh Finalmente Come faceva Non riuscire a farlo? Adesso ma c'è sta merda Puttana Perché questa qua Tipo dopo un po' Puoi richiamare il coso Credo Muori Puttana Di certo adesso non lo richiamo più Lon Ora sta buono D'ora in poi Sarò io la tua padrona Ehi proviamo a risalire il fiume finale Sargente su questo What the fuck Lupo volante Andiamo Tutututu Tutututu Ok un lupo volante Sopra un Che cavalca Un Un pipistrallo senza testa Che cacchio sta voce Allora Siamo a cavallo di un coso Possiamo farlo sprint Bla 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 Non Se andiamo a sbattere Cadiamo nel fiume Torniamo indietro E perdiamo anche qualche cuore Ci saranno dei nemici Oh cos'è sta roba Sì ma che cacchio E' andato su Se Se ti mi Che cacchio fai Non vedi che lì E' qui Però che cacchio Non va mai Non va Non sai Se non sai giocare E non è che va in su Da un momento all'altro Sì questi Sparano frecce alla cacchia Non mi hanno mai preso una volta Ok anche qua Si possono prendere rupee Mi pare Cosa che io non farò Fuck Yo Fuck 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 Ma allora Oh no 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 Ma allora sono una merda Io Vedi Ah Non c'è che ti avvicini Niente sono una merda io Basta adesso mi impegno Se ti avvicini troppo E' ovvio che non ti prende più il segnale Non mi hanno preso Ah no non mi hanno preso O non lo so Dove passiamo? Sopra sotto? Passa Basta che passo Ok mi sa che bisogna passare per fronte sopra Ok qua tranquilli andiamo più basso possibile Ok Yuppie! L'abbiamo fatta! Ci piacerebbe? No! Se cadevi via vita, potevamo manche spegnere e finire la parola. Timeravo. Ma finivamo perché non c'eri più te. Ok, il nostro amichetto se ne va via. Più mezz'ora a monte. A monte, a monte. Sì, sì. Un'anima. Oh, siamo già arrivati. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo potuti fidare di lui? Dunque, dunque, da che parte sarà il villaggio dell'Izzola? Beh, cominciamo a decamminarci. Ho i brividi, cerca di fare in fretta. Eh, qua fa freddo, credo. Che diamine staranno combinando l'Izzola? Perché non c'è più acqua nel fiume? Ha una femmina? Sì. Così non si può nemmeno lavorare. Ah! Che freddo! Ah, ho i brividi. Sì. Dunque, qua, mi ricordo male, non mi ricordo niente. Ok, mi sa che così non è, vero? Boh. Sì, però se giro con l'istinto non farò grandi cose. Ok, tutto congelato. VILLAGIO DELL'IZZOLA VILLAGIO DELL'IZZOLA Ma ora sono letteralmente congelata. Non è forse questo il villaggio zona? Non si vede un'anima. Ah. Beh, andiamo comunque a dare una macchiata. Cerchiamo. Sì, in effetti è nuda. C'è una maschera di ferro. Qui si congela anche qui un po'. Qua ci sono un po' di mostri che io non cagherò. Oh, ti ammazzo! Come non ho detto, non cagherò. Credo che da qui si possa salire. Su, provaci. Sì. Che figata. Attenzione, attenzione. Qua è abbastanza starda la roba. Ah, ti fai male anche cadendo da lupo? Più buono, hai fatto un volo di 27 mesi. Ok, non dovrò più cadere. Ok, noi siamo in una bella situazione. No, merda! Ed è vivo! Il nostro eroe! Qua non prenderlo. Dov'è? Non lo so, ci... Ok, ho capito. In pratica non devo saltare quando cadono le stalattiti. Mezzo cuore! Che eroe! Ninja lupo! Un morto con un piti strello. Non ha dato nemmeno il cuore! Fuck! Andiamo al villaggio degli Zora. E' una cosa, per cosa dovrei farti colpire? Oh, merda! No! Fuck! Loro non me li aspettavo! No, fuck! Aiuto, aiuto, aiuto! No, no, no! Via, via, via! Prima mi ammattiamo a sto qua. Ora rientri. Yes! C'ho una caga in mezzo cuore! Sì, adesso questi mi danno tre cuori. Anche qui è apparece un portale. Ora finalmente possiamo usare il teletrasporto. Se vuoi prendere una boccata d'aria nel mondo della luce, dimmelo che ti ci porto io. Oh, fuck! Ah, però i cuori li prendi, eh, stronze! Ehi, ehi! Giù, guarda giù! Oh! What the fuck! Zora congelati! Pesce! Pesce sul gelato! Scusa! Non sono degli Zora? Ehi, potrebbero esserci utili. Non possiamo fare niente? Allora cosa facciamo? Non possiamo rimanere qui con le mani in mano. Dovremmo scongelarlo. Dopotutto è solo un blocco di ghiaccio. Non serve rimanere qua se non ci vengono le idee. Allontaniamoci da qui per un po'. Torneremo a Mente Fresca. Visto che è apparso anche un portale, cerchiamo un modo per sciogliere il ghiaccio e torniamo. Sì, ma aspetta! Ok, allora, parliamo con Mitra. Puoi usare una bomba? Usare il teletrasporto? No, no, il lupo non usa bombe. Il lupo è molto più macio. Il lupo si fa esplodere proprio. Esattamente. Bomba in bocca. Monte morte. Qua io ci ho girato per mesi, senza sapere cosa dovevo fare qua. E poi anche io pensavo con le bombe. Poi ho scoperto che ci sono metodi più pirotecnici. Oh, il mio mastodigno. Non ci credo. Questo affare è qui da un bel po', ma è ancora molto caldo. Oddio. Ti ricordi? Quelli che vedono un sasso volare, cosa dicono? Non so. Stanno lì fermi a guardare. Oh, un sasso che vuole... Ciao mamma! No, arte numero no! Ciao mamma! Torno al villaggio dei sassi! Yeee! Ciao mamma! Vado a trovare fortuna in un luogo nuovo! Ciao amore! Ricordati di mangiare! Ricordati la biancheria intima! Cos'è Ash? Sì. Ash prima di partire. Esattamente. Pesce cotto! Pesce cotto! Vai! Montagne di vera. Cos'è vero che tutti i versi che stai facendo si amplificano nel... Ah. Praticamente ne hai esportato 25 persone che ti seguiranno. Evviva! Li imparano quei brutti stronzi. Guardano, stanno lì guardare davanti al computer senza fare niente. Mentre io combatto mostri, con mezzo cuore... E le cerco rupie sotto i sassi. Brutta merda. Diventando scemo. Ma vabbè, poi abbasserò il volume. No! No! Non avrei mai creduto che la cosa così pericolosa sarebbe potuta diventare tanto utile. Bene, gli Zora ora dovrebbero riprendersi presto, perciò noi possiamo anche andare. Il ghesso si è sciolto e l'acqua è tornata. Ora finalmente possiamo incontrare lo spirito del lago Hylia. 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 Però prima voglio parlare con un tizio. Ehi, tutto bene? Ah, piuttosto, che ne è di quelli del bacino della cascata? Sono morti. Perché lo sei dispinto? Così. Aspetta! Che è? Oh! Permettimi di ringraziarti per aver fatto rivivere la sorgente di Hyrule e la mia gente. Esattamente. Quando ero in vita, lei era la persona più anziana del villaggio dell'Izzora e regina del popolo. Mi chiamo Lutera. Non possiamo essere scortese. Non per essere scortese, ma non l'abbiamo fatto per voi. Le creature dell'ombra che hanno attaccato il villaggio mi hanno giustiziato per dare un esempio alla mia gente. Non ho letto bene, vero? Esattamente. Oh, giovane, tu che assumi le sembianze di una bestia orgogliosa, ho un favore da chiederti. Quando queste terre sono state assaltate, ho inviato mio figlio Ralf, al castello di Hyrule, per informare la principessa Zelda. Vadel. Ma temo che sia caduto vittima di un triste fato. L'ho avverto, la presenza di mio figlio si fa via via più fievole. Ma io non possiedo più una vita da sacrificare per lui. Te lo chiedo, per favore, potresti salvare tu il principe Ralf? Ralf, quello dei Simpsons. Se lo fai ti allargirò la protezione dell'acqua. Questo potere ti conferirà l'abilità di notare e respirare anche nelle acque profonde, come riescono a fare le Zora. Ti prego, salva mio figlio. No. No. Il potere di notare come riescono a fare le Zora? Allora? Che ne dici, eroe? Ehi, ma non vorrei mica andare ad incontrare la principessa così, sei una bestia. Allora? Non hai fretta di parlare nel mondo della luce, giusto? E invece sì! Voglio la tunica dell'acqua! Il joystick è mio, se me lo rompi... Eh, aspetta, a te mi devi il joystick. Brutto bastardo, mi devi il joystick del camcube. Cosa? Ok, qua piove pure addirittura. Però prima di parlare col tizio fermiamo la parte. Quella scossa ha fatto salire il livello dell'acqua e ha anche fatto accelerare il flusso. Quest'acqua dovrebbe scorrere fino al lago, perché non ti fai trascinare fino laggiù? Ok, andiamo dallo spirito e poi fermiamo la parte. Adesso mi sa che è molto più semplice. Contando che tipo... Con il drago... Sputato a fuoco... Occhi gialli. Cosa stai dicendo? Non lo so. La rifiuta delle lupi, infatti... E il lupo ha negato. Guarda caso siamo proprio approdati dove c'era il... Il tempio. Accidenti, ce l'abbiamo proprio fatta. Ma guarda un po'. La corrente ci ha portate fino al lago Hilia, come avevamo previsto. Sembra che siamo arrivati fino alla sorgente dello spirito. Che fortuna. Ma guarda un po'. Tu muoviti, non stai lì imparato. Dobbiamo correre dallo spirito. Andiamo dallo spirito e tu leggerai. Voglio lo spirito! Io sono l'ultimo dei samurai. L'ultimo spirito della luce avvolto nel creputo. Oh, eroe. Oh, prescelto. Dalle dee. Bene arrivato. Dove sono le mie torti? Metti qui la mia luce. Di cui si sono appropiate le creature delle tenebre. Ora il goccioliere riempi delle gocce di luce. Le gocce... Ok. Dai, lo sappiamo già. Divide l'insedio dell'ombra. Ormai conosci gli insetti dell'ombra che si sono impossessati dalla mia luce. Denuncial. Nelle terre dell'ombra, nel crepuscolo, gli insetti dell'ombra non si vedono. Così come gli esseri umani. Riprendi la mia luce. Dissipa l'ultimo crepuscolo che minaccia di avvolgere interamente l'hyrule. Le porto le mie tortine. Ma spingi. Stacca. Adesso stiamo facendo scorte di rupie che non abbiamo trovato prima. È sempre meglio prendere le rupie, anche quelle verdi. Questo pezzo di merda. Ops. E che bucena. Allora ci vediamo. Allora abbiamo fatto tutta sta roba qua. Bla bla bla. La prossima parte. La prossima parte e troveremo gli insettini. Quante cazzo di rupie ci sono qua. Vabbè, troveremo gli insettini e ci avvieremo per l'ultima maschera. Per l'ultimo pezzo della maschera. Bu. Detto questo ci salutiamo tutti. Vi saluta anche lo spirito delle tortine. Saluto. Le tortine. Vi saluta anche lo chef di cuochi e sapori. Di andare al bagno. Un lupo salterino. Midna. Tuo fratello. Tua mamma. Birbo. E anche le tortine. Qua c'è una luce. Paradiso. Ok, ci lasciamo. Ciao. Grazie.